Il signor D'accordo è stato un gruppo di 7, o di gruppo 7, è stato iniziato a Cocolici. Quali motivo è stato iniziato a Cocolici? Certo, ho fatto un po' di gente che soffre una grande medida di governo. Ora ho fatto un corredore, non è stato iniziato a prendere la guia, non è stato iniziato a prendere la guia, con la pinza, non è male per noi, quindi non è stato iniziato a prendere la guia. Non c'è un po' di gente, non c'è una placa di aeroporto, in ogni caso non c'è una placa. Mi messaggierano non chiamano alla radio e mi dice che mi voglio quittare. Ora mi vai dire, ho fatto un jefe, ho fatto un altro jefe, politico di beno, mi ha chiesto di un fiscale. Ora qui mi sono chiesto di un pezzo, qui mi sono? Però non ci sono nulla, non ci sono andati a prendere la guia. Però è stato iniziato a prendere la guia, perché la gente non è tutta malcontente, la verità sì o no. Tutto nel momento che non si dice di, dimi che non, per non si chiamano a voi al pobolo. Ora voi vede cose che si è stato andare a mandare direttamente a lei, però pica, rubiano, non è stato iniziato a prendere. Sogno, come voi stendere. Non tengo miedo, non è stato iniziato a voi, ma sono il momento che il è aves, è Borschi, ha fatto trelle gente, per quittare lei. Non è stato iniziato a prendere, per essere un ofensivo. la parola che abbiamo usato qui è che i velgani che sono stati contro noi contro i maricani che sono stati turco non sono stati olandesi quindi non mi avisa la polizia vanno a quitter il vostro patch verde il vostro patch police bag e molti non possono aiutare non sono stati molto, non sono stati bene però non sono stati mandato a ribosso e sono stati sindicato di polizia con il vostro patch verde con il mike con 21 persone che firmano non sono stati a voi, caballero non sono stati in Provenza per fare abuso con le nostre persone quindi non sono stati corrupti ma è abusato però il vostro patch è cosa che acaba è cosa che sta a duele non ci sono stati dolori e mi avisa Elvis, grazie per il spazio qui, ma c'è un'altra compagnia che è papia ma è un'altra compagnia che è un'altra compagnia per il vostro patch filmare e non è un'altra compagnia di ofensivo ma sono mi pomeriggia nella television se la in balda ora è un'altra chupa con il governo clap loper ora è un'altra compagnia con la canaplaca senza traga e un'altra parola come usa? colotte saque non sono stati qui ora è un sacco o non è un ombro un pollo ora è un pollo ora, c'è un'altra compagnia e un pollo quando si vuole spazio con il pollo e un pollo prenda la canaplaca con il pichone aga la canaplaca e ma che manda tutti quattro, grazie se si arriva a 60, arriva a 70, ma si arriva a 80, per esempio, la mamma sagrada di me, c'è quasi 3 geniei latrassi, è pensionato di APFA, è così che c'è un abuso grande, e mi racconto è il primo ministro, io quando trago il ministro WandaVit, però è stato responsabile di cose, e ha avuto tempo che il popolo non sta gullando a bomba, io continuo, 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 continuo secondo me seguo, seguo, seguo quello che voglio, voglio guardare ciò che arriva ciò che stanno,يرrassi a manifestare la cioca bisogna seguire la cioca il paese che stanno in fronte non si stanno in fronte stanno in fronte non si stanno in fronte non si stanno in fronte per avere abuso che gli anciano non si tratta per il benestate di Aruba qui si stanno in casa per dormire per avere pensionato non si tratta il hotel con i nostri uomini i nostri uomini sono grandi non si tratta non si tratta di abuso di anziani non si tratta il gruppo 7 di militanza di tutto il partito politico anche l'AVP si tratta di difendere non si tratta di costruire il paese